Ciao Leoni! Oggi saluterò 4 canali che a mio parere vale la pena di visitare e anche di più. Come al solito vi lascio il loro link nella descrizione. Saluto Homo HD! Stiamo arrivando alla fine dell'anno e facendo un bilancio per me è stato positivo ma anche riguardo YouTube proprio grazie a voi. Grazie, grazie, grazie! Saluto VALEX79! Vorrei augurare a tutti voi un 2017 pieno di soddisfazione non solo su YouTube ma anche nella vostra vita di tutti i giorni. Saluto VALEX79! Ragazzi, YouTube mi sta creando problemi negli ultimi tempi. Come ho scritto nei commenti del video precedente, ogni mattina mi accorgo che il mio numero di iscritti è diminuito ma questo non credo che dipenda da voi. Vi sono accorto che anche la mia iscrizione dai vostri canali viene cancellata. Comunque io mi riscrivo subito. Però non è facile per quei canali che hanno le iscrizioni private. Saluto XSilver! E partiamo con la intro! E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre SunGaming106. Oggi siamo su Totally Update Battle Simulator. Allora, nuovo gioco sul canale. Cioè, ogni settimana faremo nuovissimi giochi. Che bello! Ok, allora, in questo gioco noi praticamente dobbiamo formare delle truppe di questi omini. Di omini, ok. Per esempio, questi quadratini sono le truppe e questo è il campo di battaglia. Quello che so perché non mi sono tanto informato su questo gioco. Poi qui avremo i money, i soldi. Che praticamente ogni omino che piazziamo, cioè, i soldi se ne vanno. Quindi in pratica è tipo shop, shoppare, boh. Ok, io direi di mettere, no, tantissimi omini. Tipo queste truppe qua. Ok, poi un po' di lottatori, cioè i boxer. Così vanno bene. Play! Ok, noi siamo i rossi. Ecco il nostro... No, vabbè, ma madonna, eh. Vabbè, loro hanno i furconi, le mazze. Vabbè, moriamo subito, ma non è giusto. La prossima volta dobbiamo... Vabbè, poi loro sono anche di più, scusa, ma... Dai, dai, dai. No, vabbè, ma guardate che lotta. Sì, però, eh... Ma scusa, non è giusto. Non è... Ma questo qui cosa c'ha in mano? Cioè, tiene... Oddio. Eh, sì, eh... Zio, eh, la gente... Ma cosa fanno questi qua? Non sono... Oddio, ma questi sono peggio del vicino di Hello Neighbor. Sono più stupidi del vicino di Hello Neighbor. Ma che fanno? Ma, 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 ma... Vabbè, ma sono rimasto uno, ovvio, che pe... Una forcata in testa e muoio. Eh, vabbè, ma dove c'hanno i furco? Guardate, ragazzi, adesso nella prossima lotta... Anche noi ci prendiamo i fur... Eh, ma, porco, gane, però, eh... Oh, bisogna rifare tutto da capo, ok? Questa volta bisogna stare molto attenti. Ah, i farmer sono quelli con i furconi. Tantissimi far... Oh, è della madonna, forse è un po' sprecato. I soldi. Meglio metterne almeno... Di meno. Oh, così vanno bene. Poi di po'... I footmen. Cosa sono? Non li so. Oh, è della madonna. Sono dei tizi forti. Eh, il nostro esercito contro dei... C'hanno le spade! Che figo! Ammazzateli tutti, madonna. Oddio, mi sta laggando. Vai! Sì, sì, stanno vincendo i rossi! Ammazzateli! Ammazzateli tutti! Ammazzateli! Con le vostre spade... Eh, vabbè, dai. No, 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 dateli, dai. Riempiteli di cazzottate! Sì! Ce ne man... Ce ne... Oddio, questo blu... Questo blu ha vinto. No, 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 no. Dai, 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 dalle una botta! Dai, sbrigatevi però! Andate più... Quest'altro dove... Questo qui dove sta andando? Oddio, sono andato sotto la mappa! Aiuto! Oddio, aiuto! Ci rimangono solo questi due tizi! E noi siamo in tre! Vai, vai, vai! Ammazzateli, ammazzateli! Sì, victory! Ok, ragazzi, più... Eh, come vedete, ragazzi... Eh... Eh... Ogni volta che vinciamo, i soldi aumentano, quindi... Eh, big money! Ok, cos'è questo? Shield, shield! Shield vanno... Oh! No, 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 gli shield non li voglio mettere perché... Esaurisco un muccio di denaro. Mettiamo... I farmer. Sono forti, abbastanza. Ehm... 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 Li shield! Proviamo a mettere anche... Non posso più metterli! Catapult? Nemmeno loro! Ballista? E gli arcieri? No, vabbè, madonna! Ehm... Vabbè, proviamo! Guardate il nostro esercito dei forconi! Guardate loro! Ma non so che cos'è! Dai, li ammazzami in un secondo! Ah, no, c'è anche... Ah, ci sono anche gli arcieri! Non li avevo visti! Eh, però dai... Che... Che... Vabbè, non fanno tanta strada gli arcieri, eh! Sono di qua, eh! Andate di qua ad ammazzarli! Oddio! Ma... Ma... Ma sono un po' stupidi! Dovete girare! Girate, per favore! Sì, però il mio esercito è un po' difficile! Dovete andare laggiù! Non dovete fare il giro! Eh, ma... Ma loro siete proprio stupidi! Scusa! Bravi! A tavole! Andano a fare un attacco alle spalle! Madonna! Guardate sti qua! Avvicinatevi! E questi qui intanto fanno un giro! Ma li ammazzate ammazzarli! Ah, come fanno? Dai, madonna! Avvicinatevi di più! Mamma mia! Oh! Finalmente! Oddio che occhi strani! Siamo arrivati al livello... Oh! Madonna santa! 1500! Possiamo usare anche le catafiche... Ed è la madonna! Quanto è grande la... Cos'è questo cane qui? Ed è la madonna che è questo! I shield! Voglio provare a vedere come è il museo! Ed è la madonna! Che bello esercito! Gli scudi! C'hanno solo le... Vabbè! Però... 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 Io sono un po' preoccupato! Ma forse con gli scudi... Vabbè! Questo c'ha la... C'abbiamo la cataf... Madonna! È che... È cannone! Però non fa un niente! No, no, stiamo crepando di brutto! No, non va bene! No, non va bene! Non va bene un ca... No, non va bene! No, 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 no! Non dovete morire! No, ci stanno distruggendo la catafulta! Sì, però ogni esercito fa schifo! Sì, sì! Abbiamo perso! Che capperola! Oddio! Bisogna di fare tutto! Eh, va bene! Meno male ci abbiamo sempre i nostri soldi! Io direi di usare... Eeeh... Quelli con la spada! I barbom! Tanta trupp... Tantissime truppe! E poi... Eeeh... I footman! Che non mi ricordo cos'erano! Oh! Sì, sì, sì! Adesso vi avrei! Ah! Sono quelli con le mazze! De madonna! Il nostro esercito li ammazza! Li ammazza subito! Li prende e ammazza! E della madonna! Che esercito ho creato! Mamma mia! Questo se... Questo gioco mi ricorda anche Clash Royale! Cioè, tipo... Cioè, il re rosso e il re blu! Vabbè, però... In pratica su Clash Royale Te sei dalla parte blu! Non sei dalla quella rossa! No, vabbè! Ma... 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 Il mio esercito! Sta cadendo... No, vabbè! E vabbè! Però sono rimasti un bel po'! Sono contento! Cioè, questo... È laggiù! È laggiù! È laggiù! Non potevi... Ma sono un po' stupidi! Cosa fai? Ma perché sta ammazzando l'albero? No! Ma cosa fai? Vabbè! Questo vi corre nei campi! Mezzo zoppo! Ciao, zio! Che bel culetto c'hai! Bellissimo! Mamma mia! Ed è... Vabbè! Però se perdiamo così... No, va bene, eh! Fatti qualcosa! Vi prego! No! Il mio... Il mio... Il mio esercito lo sta perdendo! No! 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 Ce n'hanno ammazzato il penultimo! Ce n'è rimasto l'ultimo! L'ultimo! E vabbè! Questo muore su! E vabbè! Ma se siete in due! Scusa! Dobbiamo fare un esercito più forte! Più potente! Eh... Un po' di scudi! Io direi... Di partire! No! Il nostro esercito vince di sicuro è più forte! Ma devo sta' zitto! Perché di solito quando commento... Ehm... Non succede nulla! Ed è la... No! Il mio esercito muore! Lo sapevo! Il mio esercito... Eh! Sta accadendo il mio esercito! Dai! Vabbè! Dai! Loro ce n'hanno solo le spam! Ammazzateli! Mamma mia! Fate di danno! Mamma mia! Sì sì sì! Sì sì! Qui è buono! 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 No! Non è buono! L'hanno ammazzati! Mi hanno detto i figli di trota! Sì vabbè... Sembrano zombie! Ok! Sono rimasti solo questi qua! Questi due! E poi ce n'è rimasto quello lì! Questo qua! Questi due stanno correndo mezzo ubriachi! Oddio! Sento le grida! Ok! Una è morta! Uno è morto! Ok! Cosa fai? Gia ti! Ma questi qui sono proprio stupidi! Ma questi sono tutti bloccati nell'albero! Vabbè questo... Come ha fatto? Vai qui lo scudo! Schiaccialo! 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 Bravo! Oddio! L'ho schiacciato proprio tutto! Oddio! Lo sta ancora infilzando! Ok! Ci sono rimasti due tizi blu! Ho uno! Giusto! Ma... Giratevi! Per favore! Ce n'è uno qua! Eh! Voglio farvelo notare! Per favore! Oddio! Per favore! Gioco non mi lagare! Che mi va a 11 fps! No! Non devi laggarmi il gioco! Perché... Se no muoio! Bellissima la musica! Una figata proprio! È della madonna! Infizzatelo! È victory! Vinciamo un'altra volta! Siamo arrivati a livello 5! Mmm! 2500 dollari! Allora! Oh! Scusate ragazzi! Sono uscito! Ok! Vorrei fare l'ultima partita! Allora! Allora! Espirme! Non li ho mai sa... È della madonna! Eeeh... Non so! Voglio usare un po' 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 Non posso usare... Dove sono? Dove sono? Dove sono? Ah! No! Ed Farmer! I Farmer sono forti! Play! Eeeh! Noi siamo più... No! Madonna! Noi sono pochissimi però eh! Devo dirlo che loro... Eh dai! Ci abbiamo le lance noi! Anche loro! Maledetti! Traditori! Anche gli scudi! Eeeh! Eeeh! Madonna! Però eh! Eeeh! Oddio! Non mi laggare! Per favore! Gioco! Che un po' può laggare! Oddio! No! Eeeh! Noi vinciamo noi! Dai vinciamo noi! Dobbiamo vincere noi! Noi dai! Dobbiamo vincere noi! Sì! Stiamo vincendo! Dobbiamo vincere! Vabbè! Però mi piace abbastanza la grafica del gioco eh! Bellissimo! Ok! Cosa sta succedendo? Girati! Girati! C'è un tizio dietro! No! No! Mi fai amare! Sì! Gli ha dato una forcata! Benissimo! Eeeh! Ah! Ce n'è rimasto uno lì in fondo! Ok! Avviciniamoci all'ultimo! Eh vabbè! C'è lo scudo questo! Però il nostro, il nostro... Vabbè ma corri più veloci! Mamma mia! Va due all'ora! Ma sono ma sono ma sono ma sono! Dobbiamo vincere noi! Dobbiamo vincere noi! Noi siamo fatti per vincere! Sì dai dai! Vai più veloci! Accederai passo! Vai più veloci ti prego! Eh dai! Eh attaccalo però! Eh vai più veloce però! È che lui è più veloce di sé! Per favore! Baci subito! Vai! Corri! 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 Ti prego! Ammazzalo! Dai una forcata in testa! Madonna santa! Ma puoi correre più veloce! Mamma mia! Ma questi qui sono... Sicuramente prima di andare in battaglia hanno bevuto! Perché sono... Oh! Si è bloccato all'albero! Si è bloccato all'albero! Ma che cacchio! Che risalto ha fatto! No! E' valido! Barone! Maledetto! No! Ma siamo tutti morti! Ce n'è qualcuno! Ah no! I rossi sono qua! I miei rossastri sono qua! Benissimo! Non ti incastra... Eh! Sei incastra... No! Non c'è il passato per fortuna! C'è il passato! Questo che si nasconde dietro un cispuglio! Che bell'urlo! Proprio! Bellissimo! Dai dai dai! Dagli una forcata in testa di quelle for... Dai vai da... Eeeh! Della madonna! Un'altra vittoria! Ma quanto siamo forti! Niente ragazzi! Mi piace tantissimo questo gioco! E credo di portarci una bellissima serie! Ma comunque ragazzi! Se questo video vi è piaciuto! Commentate! Lasciate un bel like! E noi ci vediamo nel prossimo video! Bella ragazzi! Grazie.